In questo video vediamo come cancellare il vostro account di Instagram in maniera permanente. Per fare questo dovete utilizzare il PC oppure potete utilizzare anche il cellulare, però anziché andare sull'applicazione dovete cercare, quindi entrare su Instagram utilizzando il browser, quindi utilizzando Chrome o Safari o quello che volete. Io ora ve lo faccio vedere dal PC perché è più semplice. Quindi andate sul sito di Instagram, su www.instagram.com, dopodiché dovete fare l'accesso con il vostro account di Instagram, quindi inserite password e indirizzo email che utilizzate per il vostro account e fate l'accesso. Ora, una volta fatto l'accesso, dovete cliccare sul sito, sul link che vi lascio in descrizione, e vi porterà a questa pagina. Da qui potete andare ad eliminare in maniera definitiva il vostro account di Instagram. L'unica cosa che vi consiglio è, prima di fare questo, se ci tenete, fate un download, un backup di tutte le foto che avete, se sempre che vi interessi. E come vi dice appunto in questo messaggio, attenzione, pensateci bene, perché una volta rimossi, la scelta è permanente e non potrete più recuperarli. Quindi non fate altro che selezionare il motivo per cui volete eliminarlo, inserire la password qui e premere questo bottone. A questo punto il vostro account è stato cancellato in maniera permanente. Quindi per questo video è tutto, alla prossima.